Presidente, depositata in Consiglio la mozione urgente per discutere nuovamente del Tribunale dei Brevetti? Sì, sostanzialmente per cercare di chiarire e rafforzare la posizione del Consiglio regionale perché già si è respresso ma è giusto che venga ribadito. Avremo un incontro il 28 giugno con il Ministro Moavero, con il Sindaco Sala e speriamo di riuscire ad avere l'appoggio incondizionato come credo sarà del Governo. C'era stato un voto in Parlamento? Ma è un voto che è stato mal interpretato sostanzialmente, credo che sia stato un voto determinato da un po' di confusione su quello che si doveva scrivere in quella mozione, ma sostanzialmente c'è la conferma da parte di tutto il Governo che verrà candidato a Milano. Grazie per la visione!